Il penne dà tutto, ci prova fino alla fine anche in 10 ma non riesce a bissare l'impresa di mercoledì, il Giulianova alla fine fa suoi tre punti d'oro che le consentono a due giornate dalla fine di mantenere la seconda posizione. Con le riprese di Maria Carannante andiamo a vedere che cosa è accaduto sul rettangolo del Ferdinando Colangelo, sesto minuto calcio da fermo, la parabola di Francesco Di Paolo, la respinta di D'Amico, la barba sotto misura libera invece di piazzare nel sacco. Il penne comincia a uscire fuori, subisce per 15 minuti e poi si fa vedere al venticinquesimo, azione insistita in area avversario, la palla arriva a sinistra per il liberissimo e puntuale di Remigio che appoggia in rete, vantaggio 1 a 0. Il Giulianova è sorpreso, prova a riorganizzare le idee e al 37esimo coglie il pareggio, il penne si chiude sempre molto bene quindi gli ospiti non trovano spazio, allora Traini prova la soluzione dalla distanza topica di D'Amico e la sfera gli sfugge in rete 1 a 1. Finire di tempo, il Giulianova manovra a destra, azione di pregio e veloce, palla a terra ma soprattutto sfera che finisce a Di Paolo, che di piatto firma il sorpasso, 1 a 2. Un minuto di recupero e squadre al riposo ma ripresa senza fiato e ad alto contenuto agonistico. Al quarto, iniziativa di Cerasi che impegna D'Amico in angolo, la gara si accende, il collaboratore dell'arbitro richiama e allontana, così Fabio Iodice dalla panca. Il penne si espone, si va via di rimessa, si fa fermare però al momento del dribbling, serie di cambi sull'uno e sull'altro fonte, il penne ha dato tanto mercoledì ma ne ha ancora ed è anche sfortunato. Tra il minuto 28 e 29, cacciatore, centra, due pali, il primo su azione, il secondo su calcio da fermo. Gara elettrica, ancora guardaline sugli scudi, stavolta tocca al collega opposto fare spelle da Cosimo Papi di Prato, il difensore centrale bianco-rosso da Dazio. Penne in dieci, subisce il terzo gol, la posizione non è semplice ma Persiani riesce nell'intento, 1 a 3. Gara in ghiaccio, tutt'altro. Due minuti dopo, palla innocua in area giallorossa, le noci è scordinato, il braccio è largo, Papi non ha dubbi ad indicare il dischetto. Cellucci, di potenza, trasforma, 2 a 3 e gara riaperta. Si gioca di nervi fino al quinto dopo il novantesimo ma non accade più nulla. Mister, che differenza c'è? E poi parliamo della sua espulsione. Comunque tra la partita con l'Avezzano e quella di oggi. Oggi è una partita combattuta, giocata, risultato sempre in bilico fino alla fine. Poi magari entriamo nel dettaglio delle azioni. A differenza è stata che noi mercoledì abbiamo speso tanto contro l'Avezzano. Però al di là di quello comunque abbiamo fatto la partita oggi, abbiamo creato più di qualche situazione, siamo andati in vantaggio, abbiamo la possibilità di fare il 2 a 0. Tra l'altro con gli stessi uomini mercoledì, stessa formazione. Stessa formazione di mercoledì, quindi abbiamo preso il gol dell'uno pari, là abbiamo un po' sbandato. Poi il secondo gol, sinceramente non lo so quello che ha fatto l'arbitro, ha fischiato una punizione di cacciatore che nessuno l'ha capita. E loro sono partiti subito, hanno fatto il secondo gol. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni per far già la partita per andare in vantaggio. Due traverse. Due traverse, ma è chiaro che contro il Giulianova, una squadra giovane che c'ha la campa, poi nelle ripartenze rischi di prendere i gol. La sua espulsione? Non l'ho capita perché a fine primo tempo c'è stata una discussione tra un giocatore del Giulianova e il portiere nostro. Io ho detto semplicemente andate in rispogliatoi, finita qua e l'arbitro è venuto e mi ha cacciato. Non so che ha capito, sinceramente non l'ho capita. Ma è un po' di tensione, gara comunque sentita, no? Sì, è una gara importante per tutte e due. Era veramente importante questa partita per noi e per loro. Loro stavano bene pure galvanizzati da questa vittoria, non indifferente quando eravano la prima della classe e così. E quindi stavano in fiducia pure di fare la partita. Io penso che noi la partita l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta dall'inizio, la volevamo fare. Siamo venuti qua per fare la partita. Quello che mi dà fastidio è un pochettino le occasioni che abbiamo avuto per chiuderla definitivamente. Invece continuiamo a dargli questa speranza di ossigeno che alla fine, con degli episodi, la tieni viva fino alla fine. Però loro bene, è una squadra che secondo me andranno a fare i play-out con questa determinazione. Io penso che si possano salvare. Io sono contento per quello che ho visto nell'ultimo periodo, ma anche se ti dico che gli allenamenti dell'ultima settimana sono stati quelli brillanti che vedevo da un po' di tempo.